ciao ragazzi buon sabato di vigilia dal vostro bandito rosso nero allora oggi conferenza stampa del mister alle 14 allenamento mattutino speriamo che dal punto di vista fisico proceda tutto in ordine di modo che il nostro mister abbia come dice sport media se il grosso problema di chi scegliere di far giocare io vi ho detto secondo me saranno sicuramente tonali al posto di crunic e io sostengo ballottaggio messia salamandra penso venga confermato rebici davanti comunque oggi il mister ci darà qualche indicazione l'importante è che come ho detto ieri tranquilli per i nuovi c'è tempo domani importante vincere allora prima prima che mi dimentico vi ricordo un like se vi piacerà il video se vi va di iscrivervi e la campanella per le notifiche e restare in contatto poi questione personale mia ieri mi ha scritto un simpatico tifoso della terza squadra di milano dicendo che io esagero con perché era esattamente così massimo massimo nero azzurro mi ha scritto che hai visto che scrignar non l'abbiamo venduto questo vuol dire che noi i conti sono a posto sono in ordine non è vero niente che abbiamo bisogno di cedere io capisco massimo che se guardate studio sport tutti i giorni voi tifosi nero azzurri guardando su tutto sport studio sport tutti i giorni fanno dei servizi che un povi cioè se dicono come ieri che bisogna fare un monumento a marotta e ausilio perché vendendo i giovani con le plusvalenze fanno tornare i conti io capisco che poi dopo voi siete un po disorientati su questo su questo argomento no però giusto perché tu pratica mi hai fatto passare come quello che dice balle no su sulla terza squadra di milano allora i numeri sono i numeri non è che i numeri sono un qualcosa che studio sport può infatti studio sport omette i numeri perché sennò tu sapresti che l'inter al momento a 800 milioni sugli 800 milioni tendente a salire di debito perché pare perda 20 milioni al mese quindi sugli 8 facciamo 800 800 milioni di bond da quindi chi ti ha prestato i soldi tu gli devi ridare no lui zang deve ridare anzi l'inter perché è collegato l'inter deve ridare 800 milioni no di cui di questi 800 milioni 275 sono da ridare entro marzo 2023 quindi il prossimo anno insomma sarei un po preoccupato gli altri mi sembra tra tre anni se non sbaglio tre quattro anni forse tre anni comunque tre o quattro anni tutti gli altri quindi quelli che restano per arrivare a 800 no ci siamo su questo siamo d'accordo perché sono numeri sono soldi che tu devi ridare anzi zang l'inter deve ridare a octree tra l'altro i 275 che è un fondo pensionistico occhio è un fondo che ha già dichiarato ufficialmente che di fare come elliot quindi che rileva il milan e l'orisana non ha nessuna intenzione nessuna ha già dichiarato che non gliene frega letteralmente niente anche perché non è che gestisce soldi dei ricconi in giro per il mondo delle aziende in giro gestisce i soldi delle pensioni della gente quindi non ha nessuna intenzione di assumersi un rischio così grande come quello della gestione dell'inter ha già dichiarato che dell'inter non gliene frega niente è chiaro questo non l'ho dichiarato non l'ha dichiarato bandito rosso nero l'ha dichiarato il fondo a cui dovete dare 275 milioni a breve numeri che zang si è stato da poco condannato a dare 200 a risarcire di 255 milioni più spese legali delle persone a cui non ha praticamente ridato i soldi la da loro e che quindi si sono rivolte a un tribunale che ha dato torto a zang questo non è che lo dice bandito rosso nero è su tutti i giornali basta leggerli che pochi giorni fa il sole 24 ore ha scritto un articolo in cui dice che octree preoccupata di quello che sta per avvenire potrebbe addirittura chiedere prima che venga chiarita la situazione e quindi fare uscire zang prima in modo da non arrivare a quel giorno sempre premesso che di octree octree ha già dichiarato che dell'inter non gliene frega nulla sul fatto che ci sono altre cause pendenti su zang per mancata copertura dei debiti a shanghai sempre da quelle parti basta leggere i giornali è scritto su tutti i giornali ci sono gli articoli ce n'è uno che vi consiglio è scritto metà di luglio in cui spiega molto bene la situazione disastrosa disastrosa massimo mi spiace dirlo ma è disastrosa dei conti dell'inter quindi non è bandito rosso nero che esagera la situazione catastrofica sono dati di fatto sono numeri sono lì da vedere diciamo che che tiene in piedi in questo momento la baracca è l'apparato politico mediatico italiano che giustamente è pieno di tifosi dell'inter in tutti gli ambiti in politica nel giornalismo quindi diciamo c'è questa operazione di copertura di tutta questa situazione per cui voi a studio sport mandano quei servizi ridicoli cioè ma veramente ridicoli e quindi voi pensate di essere in una situazione che in realtà non è che in realtà è drammaticamente diciamo che se fosse un'azienda normale avrebbe già i libri in tribunale a me spiace per i collaboratori che verranno licenziati quelli che lavorano quelli che sono a stipendio perché poi ci sono quelli non è che sono solo i calciatori dirigenti ci sono chi lavora in sede i segretari i cuochi gli inservienti quelli che lavorano la pinettina a me spiace per loro per chi vive del proprio stipendio perché non vivrà una bella situazione alcuni non poco tempo fa infatti sono già stati licenziati e quindi non è bandito rosso nero che siccome questo è chiaro è lampante cioè io è proprio una cosa di pelle alla larga dal mio canale però non sono io che invento non sono io che esagero non sono io la situazione screenar ragazzi non è che è così difficile da decifrare non è così difficile da decifrare è un altro link che fate cercando di rimandare cercando di portare avanti la situazione ma già sapendo che comunque è una situazione che è destinata a venire giù o in un modo o nell'altro in un modo o nell'altro comunque seguite meno studio sport e magari seguite un po' di più gli articoli di finanza che vi riguardano così almeno non date la colpa al bandito rosso nero della situazione in cui Steven Zhang vi ha messo e che a parte l'apparato politico mediatico italiano tutti sanno tutti conoscono oggi si parla di Milan ragazzi questa era una questione personale con Massimo Nerazzurro ci sentiamo oggi pomeriggio per le ultime news di mercato per la conferenza del mister per convocazioni e tutto il resto forza Milan sempre stamattina gioca la primavera alle 11 abbiamo un bel attacco io darei un'occhiata ciao ragazzi così si sa mai vendiamo qualche giocatore della primavera 30 milioni per occhio di Lynch ciao ragazzi